Dal primo maggio 2023 Trasvalo ha costituito una squadra italiana fatti da esperti di elevato livello non soltanto per quanto riguarda la simulazione ma anche per quanto riguarda la conoscenza dei processi metallurgici. L'apertura di Trasvalo in Italia darà a tutti i nostri clienti e all'industria italiana l'opportunità di avere un team dedicato per tutte le attività che sono di supporto, formazione, attività di servizio nella lingua italiana molto importante ma anche darà l'apertura a tutta l'esperienza che Trasvalo nel corso degli ultimi 39 anni ha costruito grazie alle relazioni davvero molto importanti non soltanto con l'industria ma anche con l'Accademia, con i laboratori di ricerca e sviluppo primi tra i quali le col di Minparitec. Il mio ruolo sarà di supportare i clienti e mettere a loro disposizione la mia esperienza per tutto quello che riguarda esigenze nelle simulazioni dei processi di produzione dei materiali in particolare colata continua e di lingotti ma anche trattamenti termici. Il mio ruolo con i clienti italiani sarà quello di supportarli in ogni loro esigenza tecnica a partire dal problema di ogni giorno con una simulazione fino all'organizzare insieme un progetto o un'attività avanzata in cui insieme collaboriamo per un'esigenza di ottimizzazione del processo oppure per risolvere una questione legata alla qualità di un prodotto. La squadra di servizio è dedicata alla customizzazione del prodotto transvalore per aiutare i clienti e per ottimizzare l'integrazione del prodotto transvalore nella sua città di produzione. L'Italiano clienti lavorano con una grande varietà di applicazioni e processi. Altrimenti lavorano con l'integrazione dell'integrazione, alcuni lavorano con l'integrazione con l'integrazione dell'integrazione di applicazioni diversi tipi di materiali. Questo rende il mercato italiano molto interessante di lavorare con la grande varietà di processi. Il mio ruolo è di trovare la soluzione. Non è di vendere un prodotto, è di capire la durità, di pensare come la nostra piattaforma, come possiamo aiutare a evitare questo problema, come la simulazione americana può agire in questo campo e può dare una risposta. La mia attività qui in Transvalore sarà finalizzata ad assicurare la soddisfazione finale del cliente. Il mio compito sarà quello di fare da collettore, di raccogliere tutte le richieste che serviranno da un punto di vista tecnico e commerciale e di conseguenza di attivare le migliori risorse presenti all'interno del team Transvalore per poter rispondere prontamente a queste richieste sia in termini di formazione, sia in termini di consulenza, sia in termini di customizzazione dello strumento. Quindi il cliente potrà contare su un filo diretto tra lo sviluppatore del software e i tecnici che devono utilizzare lo strumento giornalmente. Io sono stato a l'administrazione dell'administrazione tecnico da l'administrazione da 2011, dove ho guidato un gruppo di 12 ingegneri. Il gruppo ha lavorato diversi aspetti, aiutando i clienti con l'installazione di Transvalore, aiutando l'administrazione dell'administrazione, aiutando l'administrazione, aiutando l'administrazione di usare il software, aiutando le training, e anche aiutando documentazioni. Mi ricordo, per esempio, nei ultimi mesi con un cliente che lavorava nel settore luxuri. L'administrazione diceva che non era possibile produire questa parte. Ogni volta che produciamo questa parte avevamo molti defecti. Quindi abbiamo discutito con lui, abbiamo chiesto di tutto il processo di lavoro, quello che vogliono fare con la simulazione, e alla fine abbiamo potuto con lui, non per lui, ma con lui, preparare la simulazione e ora questa parte è in produzione senza defecti. Questa piattaforma non soltanto permette quindi di simulare processi di forgiatura, di laminazione, laminazioni circolari, trattamenti termici, ma cosa molto importante soprattutto per il mercato italiano, quello di studiare i fenomeni di solidificazione. Infatti questa piattaforma permette anche di simulare con grande precisione e rapidità tutti i fenomeni di casting. Quindi parliamo di colata lingotti, di colata continua dove siamo leader nel settore mondiale, ma anche di processi di fonderia nei quali abbiamo delle simulazioni e soluzioni davvero innovanti che ci permette di costruire una soluzione ad hoc veramente precisa per poter simulare dei processi che oggi sono davvero molto importanti, soprattutto nel settore automotive. Le soluzioni Transvalor sono degli strumenti all'avanguardia per la simulazione di tutti i processi di produzione dei metalli a partire dalla lega liquida attraverso i semi lavorati fino al componente finale anche nelle sue prestazioni in servizio e con queste soluzioni il cliente può non solo progettare le fasi del processo ma anche provarle e fare quindi un testo, una verifica prima di andare in produzione. Questo naturalmente significa risolvere molti problemi e quindi risparmiare tempo e costi ed essere quindi più competitivi. Ci sono più e più clienti che chiedono di andare in più e pregiare la microstruzione. Per esempio, per la soluzione Digimu, possiamo pregiare la microstruzione sulle micro scale e anche per tutti gli altri software che abbiamo in Forge, abbiamo un modello GMAC che aiutano a pregiare la microstruzione sulle micro scale. In Terkast, possiamo pregiare la microstruzione usando il metodo CAFE. In questo modo, abbiamo anche la possibilità di pregiare la microstruzione. Quindi, se vogliono andare in attrazione e sapere l'evoluzione e la microstruzione, è possibile utilizzare tutte le nostre soluzioni. Possiamo automatizzare l'installazione e la post-processing di diverse materiale forzioni che vogliono fare con Forge e con Terkast. In un mondo sempre più rapido, però al contempo sempre più attento agli aspetti ambientali, direi che possiamo riassumere i benefici ottenibili in Faster, Better e in Greener. Quindi, possiamo mettere a punto i nostri processi produttivi in maniera sicuramente più rapida. In alcuni casi abbiamo registrato anche riduzioni dei tempi di sviluppo fino all'80%. Al contempo, ottenendo dei componenti di maggiore qualità, pensiamo ad esempio nuovi materiali o nuove applicazioni in cui l'azienda poi si può andare ad espandere. In maniera più sostenibile, perché grazie alla riduzione del consumo di materiale, degli scarti, del consumo di energia, del consumo di attrezzature, possiamo sicuramente ottenere un processo produttivo più attento agli aspetti ambientali e energetici. L'Italia dimostra nei giorni d'oggi di essere davvero un attore incredibile in Italia per le sue competenze, per il suo software, per la sua tecnologia. E quindi per noi è fondamentale stare ancora più vicina all'industria italiana, fornire gli strumenti necessari e soprattutto dare tutta la nostra esperienza e le nostre competenze a disposizione di quella che secondo noi sarà l'industria del futuro. Penso che la simulazione sia uno strumento molto potente nelle mani delle aziende sia per la loro competitività che per capitalizzare la conoscenza che si ha in azienda. Per questo spero di poter lavorare presto insieme, di conoscere presto i clienti italiani e vi aspetto ai prossimi eventi Transvalor. Grazie. Grazie. Grazie.